Finito il corso, ora gli allievi diventeranno agenti effettivi di polizia, prenderanno servizio nei rispettivi reparti per difendere e tutelare la popolazione. A pescare il giuramento del 225esimo corso, allievi e agenti della polizia di Stato, alla presenza delle autorità, ma soprattutto dei parenti commossi e fieri per la professione scelta dei loro congiunti. La direttrice della scuola di polizia, Katia Basilico, con il questore Solimene, si è rivolta ai giovani che hanno concluso il percorso formativo con un in bocca al lupo, ma anche con la consapevolezza che ora svolgeranno un compito fondamentale per la collettività. L'inno dei mameli a fare da colonna sonora in una calda mattina di giugno. Da oggi per questi giovani inizierà un nuovo percorso.